Cantabi Link, perché iscriversi? Abbiamo visto nel video precedente che il sito è aperto a tutti per la ricerca e la condivisione di materiali, ma noi vi proponiamo di iscrivervi, cioè di giocare davvero con noi. Allora, vediamo subito il modulo di iscrizione, è un semplice form, potrai condividere i tuoi materiali e sostenere la crescita e la diffusione del sito, cioè pubblicare i propri materiali e partecipare ai contest periodici, ne parliamo più tardi. E nell'area riservata ci sono dei programmi gratuiti, selezionati, con i loro manuali di utilizzo e molte FAQ. Form di iscrizione molto semplice, noi vi chiediamo una piccola donazione, che non è obbligatoria, è facoltativa, ma vorremmo davvero poter far funzionare il sito con delle persone che fanno gli editor, che lo tengono vivo, quindi questo ha dei costi ovviamente. Allora, cosa vuol dire accedere all'area riservata? Vuol dire poter caricare i propri materiali, ecco, servizi per gli abbonati, caricare dei materiali vuol dire poter compilare un form, compilando molti campi, perché poi vogliamo poter dare degli strumenti di ricerca efficaci, diciamo, quindi lingua, testa del brano, e poi scegliere e categorizzare tutto, cioè l'organico, scegliere le voci, per organico, genere, destinazione, sviluppi, dati musicali, eccetera. Si carica il materiale, il materiale non viene pubblicato direttamente, ma va a un editor che valuta quello che è stato caricato e poi lo pubblica nell'area comune. Altri servizi per gli abbonati, una chat interna, e poi due voci che abbiamo chiamato tools e tutorials, cioè vorremmo tenere e alimentare continuamente una serie di programmi gratuiti da presentarvi, che tutti possono utilizzare per fare musica, per registrare, per fare editing, con cellulare, con computer, con strumenti semplici. Quindi c'è questa pagina di tools e collegati a questi tools ci sono tutorials e quindi consigli non si finisce mai di imparare. E anche noi siamo ovviamente a disposizione tramite la chat. Vi dicevo prima del contest, allora avete visto quante categorie, quante possibilità di definire il proprio brano e soprattutto che orientamento noi abbiamo nell'indicare di utilizzare brani che noi pubblichiamo, che sono liberi da royalties per rielaborarli, per farli rinascere, per farli rivivere in nuove versioni, con nuove idee. Allora vorremmo premiare questo sforzo e ci ripromettiamo ogni tre mesi di promuovere un contest a premi, con dei piccoli premi in denaro, per premiare di volta in volta le migliori elaborazioni di materiali. Una volta può essere un materiale dedicato al mondo della scuola, ci può essere la migliore elaborazione di un materiale etnico. Insomma, ci inventeremo degli argomenti che lanceremo alcuni mesi prima per raccogliere il contributo attivo e di crescita da parte di tutti. Grazie, andate sul nostro sito e scriveteci senza problemi per qualsiasi domanda o richiesta. Buonasera.